Ben ritrovati con Target, questa sera ci occupiamo di libri e in modo particolare della produzione di un autore bergamasco, Nicola Rocca, 38 anni di Sotto il Monte, scrive in modo particolare thriller, alcuni di questi hanno avuto un importante successo soprattutto nell'ultimo periodo e inoltre c'è un nuovo libro di recente pubblicazione di cui vogliamo parlarvi. Per prima cosa, Nicola, ma quando nasce questa tua passione per la scrittura? Rispondo subito alla tua domanda. La passione per la scrittura forse l'ho sempre avuta ma non me ne sono mai accorto, nel senso che fin da ragazzino ho sempre avuto l'abitudine di appuntarmi dei pensieri su dei foglietti di carta che poi puntualmente finivano per essere gettati nel cestino. Finché un bel giorno una mia cara professoressa di lettere non ha visto in me questo potenziale e allora che mi ha invitato a leggere, a iniziare a leggere molto di più quanto leggessi e a scrivere qualcosa di mio. A quel punto ho iniziato a scrivere delle brevi storie, dei brevi racconti che pian piano sono diventati sempre più lunghi fino a divenire dei romanzi. Perché il genere del thriller? Il thriller, anche qui, è stata una delle mie grandi passioni fin da quando ero ragazzino. Ricordo ancora quando, all'età di 12 anni, vidi per la prima volta profondo rosso di Dario Argento e rimasi ammaliato e da lì mi si aprì proprio un mondo nei confronti di questo genere. Ad oggi, sebbene siano passati molti anni da quel giorno, la maggior parte dei film e dei libri che vedo e che leggo sono appunto di questo genere. Di conseguenza, nel momento in cui ho iniziato a scrivere delle storie mie, non potevo fare altro che sfruttare questo genere. Questo genere è a me molto caro e appunto preferito. Il tuo percorso è costellato da svolte. Possiamo provare a ricordarle? Allora, sì. La prima svolta, come ti dicevo poco fa, credo sia da attribuire a quando questa mia cara professoressa di lettere mi invitò a scrivere. Ecco, quella forse è stata la prima piccola svolta. Poi, sebbene io ci mettessi tutto l'impegno possibile nella stesura delle mie brevi storie, non riuscivo mai a trovare dei riscontri positivi, se non che quando sottoponevo le mie opere ad amici, fidati o comunque a parenti, a persone di mia conoscenza. La svolta arrivò qualche anno dopo, quando ricevetti una telefonata dal presidente di commissione di giuria di un concorso letterario a cui avevo partecipato con un breve racconto thriller. E questa persona mi comunicò di essere rientrato tra i finalisti di questo concorso. E quindi anche questa fu una piccola svolta che venne poi confermata nella giornata di presentazione quando mi ritrovai, poco più che ragazzino, a confrontarmi con gli altri finalisti. Erano tutte persone che avevano il doppio dei miei anni e erano tutte persone radicate comunque nel settore letterario, chi giornalista, chi professore di lettere, di filosofia. Insomma, erano tutte persone molto più qualificate e preparate di me. A quel punto ho capito che forse veramente qualcosa da dire le mie storie l'avevano. Dopodiché un'altra piccola svolta è la prima pubblicazione dove io ho raccolto tutte le mie brevi storie e nel dicembre del 2013 ho esordito con una piccola casa editrice milanese. La quarta piccola svolta arriva con il self-publishing, dove io ho iniziato ad autopubblicare le mie storie. e l'ultima svolta ad oggi, e mi auguro che non sia l'ultima, è arrivata proprio lo scorso anno, quando Scheletri nell'armadio, il romanzo che pubblicai nel dicembre del 2019, fin dall'inizio del 2020 iniziò ad avere un'ottima presa sul pubblico e delle ottime vendite e dei riscontri molto positivi da parte dei lettori. A quel punto arriva la svolta definitiva quando nel maggio del 2020 decido di dedicarmi a tempo pieno alla scrittura. E quindi ad oggi, come dicevo, mi dedico appunto a tempo pieno a questa passione che è diventata una professione di fatto. I tuoi romanzi sono incentrati principalmente su due filoni, quello investigativo e quello psicologico, e poi c'è un tema che viene spesso richiamato, quello della violenza sulle donne. Sì, ecco, questi sono un po' i due grandi filoni che io cerco di portare avanti con i miei romanzi. Ci sono appunto dei romanzi che seguono proprio la parte investigativa e quindi c'è dietro un grande lavoro da parte degli inquirenti, delle forze dell'ordine, lavoro che per fare io mi sono dovuto informare raccogliendo appunto informazioni dai professionisti del settore. E questa è una tipologia di storie che scrivo. L'altra invece che abbandona quasi completamente la parte investigativa, diciamo che il ruolo degli inquirenti è proprio marginale, per dare risalto a quella psicologica. Io vado ad analizzare la psiche, il lato più oscuro dei personaggi, e cerco di fare appunto emergere la loro parte nera, oscura, la loro parte, la parte che tutti abbiamo, ma che fortunatamente nella maggior parte di noi non emerge, rimane all'interno proprio perché abbiamo il nostro lato bianco che predomina. E poi, come giustamente dicevi tu, c'è questo terzo filone o comunque questo argomento molto importante che emerge soprattutto in due delle mie opere, sono Bugiarde Verità e Stalker, dove appunto si parla di violenza sulle donne e viene fatto in una maniera del tutto diversa tra un libro e l'altro. In uno ho cercato di dare maggior risalto alla figura maschile e nell'altro ho cercato di dare maggior risalto alla figura femminile perché è vero che il problema della violenza sulle donne è appunto un grosso problema, un grosso ostacolo da risolvere che penalizza molto la figura femminile, ma in alcuni casi, purtroppo nessuno o quasi nessuno riflette su questa cosa, ad essere penalizzata è anche la figura dell'uomo. Molte volte anche un uomo può subire delle violenze sia fisiche che psicologiche da parte di una donna, però questa cosa viene un po' demonizzata, non viene mai presa in considerazione e quelle poche volte che viene presa in considerazione non viene presa in considerazione sul serio, insomma. Ora interessiamoci all'ultima pubblicazione, Il Discepolo, arrivata alla distribuzione lo scorso gennaio. Sì, allora, Il Discepolo è il mio ultimo romanzo pubblicato il 21 gennaio di quest'anno ed è il sequel della morte all'ora in bocca, uno dei miei cavalli di battaglia, un romanzo appunto, allacciandoci alla domanda precedente che collocherei nel filone investigativo, è un romanzo nel quale prosegue l'avventura di questo killer detto killer della cravatta che era stato sconfitto nel primo romanzo e però nessuno aveva fatto i conti con il fatto che questo assassino potesse avere un complice, quindi un discepolo. E nei prossimi giorni è in programma proprio la prima presentazione con un incontro online. La prima presentazione ufficiale che farò del discepolo sarà venerdì questo, venerdì 19, lo farò in una diretta Facebook in collaborazione con la biblioteca di Villanterio in provincia di Pavia e una carissima amica, nonché lettrice, che organizzerà il tutto e quindi farà da mediatore. Soffermiamoci anche un po' sulle prospettive degli scrittori in questa fase in cui non è possibile organizzare incontri in presenza e quindi non è possibile nemmeno avere il modo di avere degli scambi diretti con i lettori incontrandovi dal vivo. Allora, posso dirti che mi manca profondamente il contatto col pubblico. Io ho sempre amato fare delle presentazioni, incontrare i lettori, incontrare i vecchi lettori, ma anche nuovi lettori. Io quotidianamente mi scrivo con i lettori su Messenger, su Instagram, su Facebook proprio perché amo questo stretto rapporto che ho con loro e a causa di questo momento che stiamo, difficile momento che stiamo attraversando cerco appunto io come le persone che fanno il mio stesso lavoro ma anche persone che fanno altri tipi di lavoro ci si adopera nell'utilizzo dei social e quindi organizzare come dicevo poco fa delle dirette, delle presentazioni virtuali può comunque essere un buon modo per sopperire a questo problema e farci sentire un po' tutti all'interno della stessa stanza, no? Anche se non è così, però magari con un po' di fantasia riusciamo a ritrovarci tutti nella stessa libreria o nella stessa biblioteca.